Metterò in evidenza che opterò per il Senato e quindi comunicherò conclusa la mia esperienza di Presidente della Giunta Regionale. Il Governatore Luciano D'Alfonso ha deciso, opta per il Senato e lascia l'Abruzzo. Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente del Senato e domani a Pescara il Presidente D'Alfonso tirerà le somme dei 50 mesi di legislatura. Quanto ai tempi burocratici della scelta, D'Alfonso ha chiarito che la raccomandata spedita dalla Commissione Gasparri che ridava tre giorni per decidere sulla incompatibilità, non mi è ancora arrivata. Ho avuto comunicazione che arriverà domani e dopodomani. La mia lettera di disimpegno è già pronta e spero di renderla nota, spiegarlo D'Alfonso. Dalla dara dell'opzione partirà dunque tutta la procedura che dovrà portare l'Abruzzo a nuove elezioni entro 90 giorni. Domani, giovedì 9 agosto, a Pescara D'Alfonso terrà una conferenza stampa per illustrare l'attività svolta nei 50 mesi di legislatura e la delibera con cui si sancisce il passaggio di consegne e la comunicazione con cui conclude l'esperienza di governo alla guida della regione Abruzzo, attivando la dedizione esclusiva quale senatore della Repubblica. Ieri intanto ci sono state le barricate in Commissione per l'approvazione della legge elettorale. Quale regione lascia ad Alfonso? E' la domanda dell'ultimo minuto che apre le porte alla campagna elettorale.